Siamo in compagnia dell'assessore al bilancio del comune di Agropoli Roberto Mutalipassi per chiarire un po' come è strutturato il piano parcheggi per l'estate 2020 dopo lo stop da parte dell'amministrazione comunale per venire incontro i cittadini durante i quasi tre mesi trascorsi per l'emergenza coronavirus. Allora assessore in tanti non hanno ancora capito il parcheggio è stato riattivato si deve pagare non si deve pagare gli abbonamenti soprattutto ecco ci può spiegare un po' nel dettaglio. Sì innanzitutto buongiorno a tutti i telesportatori di Cilento Channel cerco di fare un attimino di chiarezza come come amministrazione comunale all'indomani dell'emergenza sanitaria che si è avuta con l'emergenza senza punto a seguito del coronavirus. Ci siamo subito attivati affinché visto anche l'impossibilità di circolazione per rispettare quelli che erano le disposizioni ministeriali di distanziamento sociale ci siamo attivati perché ci sembrava ingiusto far rimanere a pagamento dei servizi che la cittadinanza o gli utenti non soffrivano più. Quindi in un primo momento avevamo disposto una riba giunta comunale avevamo previsto una prima sospensione dal pagamento, dall'esonato dal pagamento del ticket del Stisce Blu fino al 3 di aprile. In conseguenza della manifestata necessità quindi della durata dei provvedimenti di distanziamento sociale adottati con i successivi provvedimenti da parte del governo abbiamo poi con una successiva direbbe giunta disposto l'esenzione fino a tutto il 31 maggio 2020. Quindi dal primo giugno 2020 i parcheggi a pagamento, gli stali a pagamento del comune di Acopo sono tornati pienamente a regime quindi sono soggetto al pagamento. In particolare ci siamo anche preoccupati per quelli che erano gli abbonamenti perché giustamente abbiamo pensato che per il periodo per il quale la cittadinanza che era dotata di abbonamento non soffrisse di questo servizio era giusto limitare il loro danno economico e quindi prevedere una sorta di sospensione della validità di abbonamenti i quali appunto per il periodo dall'11 marzo fino al 31 maggio 2020 il periodo di validità è stata sospesa degli abbonamenti e la loro validità è iniziata a decodere dal primo giugno 2020. Cosa succede? Cerco di fare un esempio. Un abbonamento che casomai scadeva il 30 di aprile 2020 bisogna calcolare una proroga di 80 giorni dalla scadenza e in questo caso nel caso specifico la scadenza si portava automaticamente a tutto il 19 luglio 2020. Giustamente un abbonamento che scadeva il 12 marzo 2020 avrà solo un giorno in più rispetto al 31 maggio di validità quindi sarebbe poi scaduto il primo giugno perché bisogna sommare sempre 80 giorni dalla data di scadenza riportata sul ticket di abbonamento che però ricadeva in questo periodo 11 marzo 31 maggio 2020. L'abbonamento che è scaduto il 28 febbraio non beneficia di nessuna sospensione perché era già scaduto alla data di entrata in vigore di questa nostra disposizione. Quindi in questi giorni dal primo giugno sono tornati in vigore il piano parcheggi che l'amministrazione aveva deliberato con l'aggiunta numero 97 del 29 marzo 2019. Stiamo ragionando adesso in attesa del provvedimento di approvazione del nuovo bilancio 2020 di rimodulare il piano parcheggi con la previsione anche in virtù della sospensione dei parcheggi e della diminuzione dei parcheggi che si potrebbero avere in seguito alla chiusura del lungomare San Marco a mettere a disposizione delle utenti e degli cittadini nuovi nuovi piani parcheggi proprio in località San Marco alle spalle di San Marco. Quindi stiamo valutando un nuovo piano parcheggi e in questa nuova valutazione come già anticipato dal sindaco qualche giorno fa molto probabilmente avremo una rimodulazione delle tariffe per quanto riguarda il parcheggio del campo sportivo Landolfi. Ossia si sta pensando appunto di renderlo completamente gratuito negli orari diurni molto probabilmente fino alle 18 di pomeriggio e poi di farlo risultato a pagamento molto probabilmente dalle 18 in poi. Assessore possiamo chiarire anche per quanto riguarda Piazza San Severino nel centro storico ecco da dove parte la zona ZTL e come funziona lì per i parcheggi perché c'è ancora qualche cittadino che non ha capito come è predisposto lì il piano parcheggi. Quella zona a cominciare da un tratto di via di via Carmine Rossi e la via Tenente Gino Landolfi che collega a Piazza San Severino non è oggetto di parcheggi a pagamento ma è una zona di cui accesso appunto è limitato esclusivamente ai residenti e quindi a Piazza San Severino possono parcheggiare esclusivamente i residenti della zona o eventualmente qualche automezzo autorizzato per motivi di lavoro o per motivi di diciamo di urgenze dietro comunicazione al comando vigili urbani. Un'ultima domanda Assessore per quanto riguarda il barco elettronico che porta invece al porto turistico ecco se è attivo se sarà attivato se è disattivo insomma possiamo informare anche su questo? Attualmente non è attivo si pensa di attivarlo molto bene per i fini di settimana come è successo in un determinato orario dopo le 20 come è successo per la scorsa estate.